Gentili telespettatori, buona giornata. La domanda è questa. Ma il 50enne, 60enne, 70enne che non è vaccinato e lavora, che fanno? Lo licenziano dal posto di lavoro? Allora, chiariamo questo dubbio. Chi ha più di 50 anni e viene sorpreso senza Green Pass rafforzato rischia 100 euro di multa. I lavoratori che hanno il Green Pass base oppure rafforzato hanno 5 giorni di assenza giustificata e dopo scatta la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio. Chi viene sorpreso al lavoro senza Green Pass rischia una multa da 600 a 1500 euro. Stessa sanzione anche per i lavoratori con più di 50 anni. Chi deve controllare i dipendenti e non ottempera questa funzione rischia una multa da 400 a 1000 euro. La stessa sanzione scatta anche per i clienti di esercizi commerciali, bar, ristoranti, ma anche di luoghi dello spettacolo sorpresi senza Green Pass. Per i locali pubblici che non controllano la certificazione rafforzata, dopo 3 sanzioni può scattare anche la chiusura fino a 10 giorni. Queste sono decisamente le cose da sapere. E poi abbiamo anche un allarme che arriva dalle imprese perché sulle assenze, anche poi ospedali e trasporti i più colpiti, con quasi un milione e mezzo di positivi al Covid cresce la preoccupazione degli imprenditori. L'impennata delle assenze sul lavoro potrebbe rallentare la produzione di diversi siti produttivi, fabbriche. Mentre molti andranno in smart working, lavoro agile, Alcuni servizi pubblici, ci sono già dei problemi nei servizi pubblici, perché lo smart working nel pubblico impiego va bene, ma fino a un certo punto, perché poi ci sono dei servizi che non possono finire in smart working. Più è alto il contagio, più si ricorrerà a questa misura. Il lavoro in presenza verrà poi recuperato in futuro. Sia Orlando, ministro del lavoro, e Brunetta, ministro della pubblica amministrazione, hanno firmato una circolare per sensibilizzare amministratori pubblici e aziende private a utilizzare pienamente lo smart working. Eh, ma dove non si può, le assenze certo sono pesanti. Per esempio, gli ospedali, dove stanno congelando le ferie e ci sono doppi, tripli turni per medici e infermieri. La raccolta dei rifiuti comincia ad avere dei disservizi. Vabbè, su Roma è come... Insomma, addirittura anche le corse degli autobus metropolitane cominciano ad essere tagliate in tutta Italia. In Lombardia, ad esempio, l'azienda Trenord ha dovuto rimodulare le corse previste dal 10 gennaio a causa assenza di macchinisti capitreno. Ad esempio, a Milano, l'ATM per Covid ha già 350 persone che mancano dal posto di lavoro. Molte aziende riapriranno questo lunedì, dice il presidente di Confindustria Veneto Enrico Carraro. E le assenze aumenteranno. Adesso, con l'obbligo del vaccino per i cinquantenni, dice guarda caso, arriverà la malattia di qui, la malattia di là, l'assenza di cinque giorni, una settimana, intanto per prendere tempo. Anche perché l'obbligo di vaccinazione, come dice il governo, sarà da subito efficace, efficace, appena verrà pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto, quindi fra qualche ora, l'obbligo vaccinale per i cinquantenni, sia al lavoro che anche per chi non lavora, è da immediatamente operativo. Poi c'è tempo, fino a una certa data, per fare il vaccino. Però l'azienda già comincia a monitorare questa situazione da questo lunedì. e da Confindustria dicono dobbiamo evitare che si fermino le aziende. L'obbligo vaccinale, dice il presidente di Confindustria Veneto, va bene, anche perché i vaccinati rispondono meglio al contagio e possono tornare prima al lavoro. Inoltre, come si è visto nella scuola, l'obbligo può dare una spinta per convincere chi finora non si è vaccinato. Però c'è anche un calo della mano d'opera proprio per le assenze che possono bloccare i turni di lavoro completamente nelle aziende manufatturiere. Ad esempio, l'alluminio nel Bergamasco, con 350 dipendenti, basta un'assenza del 15% della mano d'opera che può bloccare un intero turno di lavoro perché sono persone con una certa esperienza che non si possono sostituire così in cinque minuti con qualcun altro. Ma Confindustria dice, speriamo che l'obbligo della vaccinazione ci possa aiutare. Poi ci sono le assenze nel settore turistico alberghiero. Dice, abbiamo registrato una buona affluenza di clienti a Natale e Capodanno. Per esempio, uno chef e il resto del personale della cucina sostituire poi le assenze non è affatto semplice. Però il problema adesso è che non ci sono neanche più clienti mentre la cassa integrazione Covid è scaduta. Senza la proroga della cassa integrazione c'è il rischio di un'ondata di licenziamenti. Bene, cioè, bene, tra virgolette è un modo di dire. Ci vediamo tra una ventina di minuti per altri aggiornamenti su questi decreti perché ieri appena uscito il decreto non c'era la completezza delle informazioni. Adesso piano piano si sta cominciando a delineare quali sono anche i contorni. Sì, ci sono licenziamenti, non ci sono licenziamenti, le date, quando entra in vigore effettivamente. Bene, con oggi cercherò di chiarire meglio tutti questi aspetti. Per il resto, grazie per seguirmi. C'è anche, ricordatevi, la community dove ci sono sondaggi, quali poter partecipare, link, notizie di vario genere. E poi c'è l'altro canale Tele Italia Seconda Rete con video di notizie, politica e fai da te. Mentre poi abbiamo anche la pagina in Facebook dove questi video di YouTube dei due canali, Tele Italia e Tele Italia Seconda Rete vengono condivisi dopo qualche ora. Grazie nuovamente e ci vediamo presto.